eeeh allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono Gazzas34 e io sono New734 ed oggi siamo di nuovo sull'account di Giacomo il quale ci permette di rollare altre 33.450 gemme buono buono attenzione a queste 450 perché faranno la storia esatto alla ricerca del golem perché gli manca e ne ha un sacco bisogno mi sono immaginata il logo di alla ricerca di Nemo con l'immagine della ricerca del golem primo roll da 3 lo sai lo faccio io e il golem lo prendiamo qui quasi proprio così dai che lo prendiamo adesso col mio roll si mamma mia tu ogni tanto fai questi roll fantastici dove vabbè io che vuoi dai allora facciamo così io faccio uno adesso ne faccio uno io io quando mi sento il leggendario non esce nulla però guarda abbiamo già speso tante gemme vai prova vado io non abbiamo preso neanche un leggendario ancora e dammelo stagone non ho cliccato bene dammelo dammelo vado io no vabbè allora facciamo così uno io uno tu se non esce il leggendario adesso proviamo qualche roll da 1 ok poi se vediamo che non va vado io ok 1 1 2 3 mamma mia provo io 1 2 3 sei comunque sempre il verde ma io non so perché oggi allora riproviamo 1 2 3 niente 1 2 3 no ok fermi tutti chiudiamo riapriamo perché non è cosa cioè sono già 6.000 a un altro allora lo provo niente no perché erano dispari le gemme sono già 6.000 3 sono già 7.000 gemme 7.000 aiuto c'è più di 7.000 gemme e niente quindi riavviamo al volo vediamo che cosa esce ed eccoci tornati allora vediamo un po torniamo qui lo sai il primo roll lo faccio io quando mai così ma non mi farei mai più roll tu eh vado io oh mio dio giaco che account hai allora vediamo proviamo ancora un po c'è impossibile che non escono eroi leggendari è terribile veramente oh mamma mia c'è neanche uno ancora e dammelo sto leggendario dai dai leggendario che poi ha pure un orario propizio sono alle 5 meno 10 no alle 6 meno 10 wow una succube no alle 5 meno 10 è giusto quindi alle 5 di solito vai tocca a te tocca a me intanto 1 a 0 eh ti capirai quella succube proprio intanto è 1 a 0 proprio ma guarda ma scusami 15.000 gemme dai mamma mia dai non possiamo non trovare niente è imbarazzante no infatti io poi cioè glielo dico giaco guarda ti ho trovato una succube uh che bello proprio quello che cercavo aiuto ok no vabbè ma non ci posso credere non ci posso credere qua tre leggendari beh è fantasma 2 a 0 ok ora si sei 2 a 0 ma adesso recupero dai al turno dopo forza riproviamo riprovo io olè bobo natale ho trovato un bobo natale ragazzi non sul mio account ma l'ho trovato per ridere 2 a 1 tocca a te di nuovo a me ninja però abbiamo bisogno del gome il gome il golem il golem vale 2 dai oggi il golem vale 2 punti ok campione gelatinoso come il gome il gome il gome il gome il gome aiuto e comunque sono 18.000 gemme e 4 leggendari è un po imbarazzante è un po tanto imbarazzante golem mamma mia e 1 2 3 stella non lo farei mai più 1 2 3 mamma mia 1 2 3 cazzo quasi 1 2 3 oi 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 che cos'è questa cosa pausa pausa dai anche se tocca a me tocca a me che bello il re fantasma e dammi le leggendari buoni e dammi le leggendari buoni intanto stiamo 3 a 2 senza le vocali ho fatto quasi una tripla sì in effetti è un bel colore tutto viola dietro però questo colore sto vincendo io comunque è più comune sto vincendo io comunque 4 a 2 per ora se trovo un golem recupero 4 a 4 e non l'hai trovata e lo trovo io adesso al prossimo turno no guarda il golem si prende così scherzi a parte guarda vedi no no si prende così guarda allora io dico che si prende così tengo premuto dico oh golem visto campione gelatinoso campione esattamente quello che cercavo aiuto ecco io avevo intenzione di scioppare ad agosto però non lo fare non lo fare vista la situazione mamma mia ma c'è questo golem si è perso per strada ma anche gli altri eroi si sono persi per strada ma veramente sono andati a qualche perfetta vai riprova wow che bello un addestratore di beve una sirena sempre sotto i due io un barba bianca è la terza rollata ottimo dai 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 oh dai dai è finita l'onda sono sotto i tre sono sotto i due golem golem che bravo allora fai tu due volte un'altra vai golem droido sei sotto i treni faccio io fai tu vado io e io faccio l'ultima dai non hai trovato il golem e ho vinto io alla stragrande come sempre peccato però guarda se guardi l'orario effettivamente sono quasi le 5 ma all'ultimo abbiamo trovato un sacco di roba infatti più ci avvicinavamo alle 5 e più trovavamo roba a sto punto a saperlo l'avrei aspettato 10 minuti porca eva cioè non me l'aspettavo non mi aspettavo così poca roba ragazzi 30 erano 33 33 453 ok 33 453 gemme e c'è veramente la prima parte le prime 20.000 gemme sono andate veramente male ma veramente 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 male è tutta colpa dei gatti ragazzi questo video giunge al termine io spero comunque vi abbia intrattenuto vi sia piaciuto insomma che vi inviti a lasciare un like qui sotto il video vi invita eh non no cioè io io non ve lo chiedo però il video il video vi sta invitando a lasciare un like per favore ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti e grazie per la visione ciao ciao